Imballaggi in plastica zero in discarica al 2020 è la proposta appena presentata dalle Cambiente e Corepla, ma come è possibile aumentare la quantità e la qualità della raccolta differenziata degli imballaggi in plastica? La raccolta differenziata degli imballaggi in plastica può essere migliorata sia quantitativamente che qualitativamente, quantitativamente perché oggi abbiamo, consultiviamo una raccolta che praticamente è pari al 55% dell'immesso al consumo, il che significa che il 45% di 2 milioni di tonnellate, che sono 900 mila tonnellate, per cui è un numero assai significativo, non vengono raccolti differenziatamente. Che cosa succede di questa frazione? Che i comuni che non fanno la raccolta differenziata, questi materiali li mandano o direttamente in discarica o direttamente a incenerimento nei termoglializzatori comunali. Questo significa che di questa frazione almeno più della metà sarebbe riciclabile, per cui noi sprechiamo più di 450 mila tonnellate, io stimo un numero vicino alle 500 mila tonnellate, di materie prime e seconde che potrebbero creare lavoro, per cui posti di lavoro, ricchezza e economia circolare che farebbe crescere anche il prodotto del Paese. E su questo si chiede un'attenzione maggiore della politica a questo problema, perché è un problema che riguarda sostanzialmente le amministrazioni comunali. La qualità va migliorata sia laddove si fa la raccolta differenziata, anche laddove si fa la raccolta differenziata, perché è fondamentale. Non dimentichiamoci mai che la raccolta differenziata non è un fine, ma è un mezzo e il mezzo è di ottenere un buon riciclo. La plastica non è che scomparirà nei prossimi decenni, la cosa con cui noi stiamo molto ragionando è che se si parla di economia fossil free, vuol dire che è libera dal fossile soprattutto per la produzione di energia nei grandi impianti e per la produzione di energia per il trasporto. Però ciò nonostante c'è la possibilità oggi soprattutto per un Paese come l'Italia, che è privo di materia prima, di sviluppare un settore industriale che è quello del riciclo della plastica, del riciclo degli imballaggi, sia nel settore industriale, ancora oggi purtroppo c'è un eccesso di utilizzo degli imballaggi nel settore della termovalorizzazione, ma invece molto di questo andrebbe riutilizzato nel settore del manifatturiero, anche riformulando completamente il sistema degli incentivi che oggi è troppo premiante rispetto ai termovalorizzatori. Facendo un accordo con i cittadini, i cittadini sono disponibili a cambiare se capiscono qual è la direzione. Ci sono punti d'Italia in cui il livello di raccolta differenziata è altissimo, vale in città medio piccole e vale anche in grandi città. Io ricordo che Milano è attualmente la prima in Europa fra le grandi città per la raccolta differenziata ed è prima nel mondo per la diffusione dell'umido. Questo perché quando si capisce qual è il senso delle azioni che vengono chieste, i cittadini rispondono bene. C'è un problema di trasparenza, di indicare una direzione condivisa e di far capire che queste azioni non sono delle azioni dovute alle fissazioni di qualche burocrate, ma sono azioni che preparano il futuro, che rendono migliore la nostra vita, che preparano un'economia più competitiva. Riprendo quello che sono stati gli interventi soprattutto di Stefano Ciafani di Lega Ambiente per confermare che come Conai noi stiamo già agendo su questa propria tipologia di progetti che Stefano ha richiamato. In modo particolare per quello che riguarda le imprese noi abbiamo un progetto che è un progetto di prevenzione, quindi aiutiamo le imprese a produrre imballaggi più ecocompatibili. Questo ha un riscontro poi molto positivo sull'attività di riciclo che noi ricordiamo è l'importante. Anche oggi si è parlato molto di raccolta differenziata in un ambiente in cui invece si deve parlare di riciclo e su questo anche con Lega Ambiente abbiamo detto che è opportuno che si introduca sempre e si comincia a parlare anche di riciclo, quindi non solo di raccolta ma anche di riciclo verso i cittadini. Il secondo aspetto sempre verso le imprese riguarda quella che è già stata richiamata come differenziazione del contributo ambientale. Noi stiamo valutando in funzione della riciclabilità degli imballaggi un contributo diversificato. Un altro aspetto che è stato richiamato è quello dell'informazione ai cittadini e ai comuni. Noi abbiamo appena rifatto l'accordo quadro Ranciconai dove l'aspetto della qualità legata al riciclo è uno degli aspetti più importanti. Da questo punto di vista è importante dire ai cittadini che esiste un sistema, che è il sistema CONAI, i consorzi di filiera, che avvia a riciclo i materiali. Quindi lo sforzo che a loro si chiede in casa di separare i rifiuti è importante, è importante che lo facciano bene perché da questo dipende il riciclo. Grazie a tutti.